Ciao a tutti cuoricini e cuoricine! Come state? Speriamo bene! Allora oggi sono qui per farvi vedere un solo pacco che ho ricevuto da Vinted è uno solo ragazzi però ve lo volevo spacchettare e vedere con voi cosa mi è arrivato è chiuso molto bene devo dire la verità il pacchettino è stato aperto e abbiamo trovato questo questo di SSC Napoli e dovrebbe essere questo eccolo qui portafogli del Napoli guardate che bello qui con il suo logo in rilievo la N e il Napoli SSC Napoli poi dentro abbiamo questo che è per le sue monetine e qui i portacarte e qui potete metterci tutto quello che volete cioè mio marito di solito ci mette le cose che servono subito qui poi a seconda di come fa comodo a voi questo e comunque piacerà tantissimo a mio marito perché questo è l'ennesimo regalo posticipato del suo compleanno allora ragazzi il video è finito qui spero tanto che vi è piaciuto questo prodotto quindi lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi e mi raccomando come dico sempre attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sui nostri video ragazzi il nostro cuore è vostro e con tanto affetto vi auguriamo una buona giornata alla prossima ciao